carissimi amici e amiche bentornati a una nuova puntata del catechismo di san piodesimo che oggi è arrivato comincia alla terza parte quella riguardante cioè mezzi della grazia un discorso importantissimo e quanto mai attuale ma sulle cose di fede più o meno tutto è molto attuale perché adesso di fede in giro ce n'è poca e quindi qualunque discorso diventa assolutamente fondamentale però questa sezione dedicata ai sagramenti è molto importante perché oggi i sagramenti sono poco praticati e sono anche male praticati quindi in pochi li praticano e tra quei pochi la maggioranza di quei pochi li pratica male solo che il problema è che senza sagramenti figlioli miei cari non c'è nessuna speranza di non solo di santità ma nemmeno di giustizia perché se tutto quello che il signore era fatto per noi non ci viene comunicato e questa viene solo attraverso i sacramenti e anche ascoltare le più grandi prediche del più grande predicatore della storia come il sant'Antonio da Padova potrebbe giovare alla nostra salvezza perché per quanto belle sono le cose che ci possa trasmettere poi per metterle in pratica ci vuole l'aiuto del signore c'è la grazia e la grazia si ottiene attraverso i sacramenti e se i sacramenti non li frequento tutte quelle belle cose rimarranno appunto delle belle cose distanti dalla mia vita ora ci attendo un viaggio lungo e innanzitutto chiaramente il catechismo del esempio decimo introduce cosa sono i sacramenti in generale cosa che dobbiamo certamente capire molto molto bene e poi affronta uno per uno tutti quanti i sacramenti in particolare il battesimo e l'eucaristia la confermazione sull'eucaristia vedremo che articola molto bene il discorso ci ci porterà diverso tempo così come sulla confessione io credo che l'eucaristia e la confessione devono veramente essere studiati nel catechismo di San Pio decimo e poi chiude con l'estremo unzione così si chiamava allora l'ordine e il matrimonio dopo questa lunga sezione dedicata ai sacramenti ci sono c'è la parte dedicata all'orazione e dopodiché il catechismo è finito perché poi alla fine ci sono tutti quanti una serie di testi riguardanti le preghiere ma è finita diciamo la parte dottrinale ora ci avviamo dentro questo viaggio all'interno dei sacramenti sarà un viaggio veramente bello e con l'aiuto della grazia di dio cominciamo a leggere i numeri che già ho introdotto fin troppo a lungo numero 267 che cosa sono i sacramenti i sacramenti sono segni efficaci della grazia istituiti da Gesù Cristo per santificarci signum efficax in latino è la definizione di sacramento che diede San Tommaso da Quino una definizione come tante date da questo genio della filosofia della teologia soprattutto un grande santo un gran cristiano signum efficax non è cioè non c'è niente di migliore per definire un sacramento signum efficax nel numero seguente spiega il catechismo di San Pio X perché si chiamano sacramenti segni efficaci della grazia e sacramenti 268 perché i sacramenti sono segni efficaci della grazia leggo anche questo e poi ci fermiamo un istante i sacramenti sono segni della grazia perché con la parte sensibile che hanno significano o indicano quella grazia invisibile che conferiscono e ne sono segni efficaci perché significando la grazia realmente la conferiscono allora spero che sia chiaro perché poi lo sforzo del catechismo di San Pio X deve essere chiaro comunque ad abundansiam prendiamo un sacramento a caso il battesimo qual è il segno del battesimo il segno significa signum no quindi una cosa che si vede quando io faccio un segno faccio un i sensi no pensate ai segnali stradali quelli significano qualche cosa no io li vedo con gli occhi allora qual è il signum del battesimo è l'acqua l'acqua perché i segni sono importanti nei battesimi perché per capire gli effetti del battesimo io devo chiedermi che ci faccio con l'acqua nella vita comune a con l'acqua non ci laviamo si spera ecco e l'acqua la beviamo perché se non beviamo l'acqua moriamo allora queste due proprietà dell'acqua che poi costituiscono il motivo per cui noi l'adoperiamo l'adoperiamo sono esattamente gli effetti spirituali che il battesimo produce realmente quindi questi queste simbologie collegate all'acqua lavare e mantenerti in vita quindi darti cioè sapete che senza acqua non si può proprio vivere senza cioè noi possiamo fare anche un digiuno di 40 giorni io dico sempre quando Gesù ha fatto un digiuno di 40 giorni sicuramente ha bevuto potuto uno può anche se c'è un fisico d'acciaio resistere 40 giorni senza mangiare c'è un fisico d'acciaio senza mangiare niente ma senza bere si muore quindi l'acqua è la vita e allora che cosa fa il battesimo? ci lava dal peccato originale se i bambini e da tutti i peccati se siamo adulti quindi il lavaggio no? ma ci infonde anche la grazia santificante cioè la vita divine ecco che attraverso questo segno tu capisci la grazia che ti viene trasmessa e attenzione perché segno efficace? perché ciò che l'acqua simboleggia che è appunto il lavare e conferire la vita attraverso il sacramento realmente ti viene trasmesso e se il sacramento non lo ricevi ordinariamente poi capiremo perché dico ordinariamente quella grazia il Signore non te la dà per cui noi i sacramenti non possiamo bypassarli così non possiamo dire Gesù ha detto andate in tutto il mondo battezzate ogni creatura dice ah va bene ma che li battezzi a fare tanto se uno ha la sua propria religione e se stai in buona fede e se segue in buona fede i dettami di quella coscienza di per sé non è impossibile che si salvi quindi che credo di andare a turbare e a fare che glielo porti a fare il Vangelo dico ma scusa un attimo ma se Gesù nel Vangelo ha detto andate e predicate il Vangelo a tutti chi crederà e sarà battezzato sarà salvo e chi non crederà sarà condannato ma ci sarà un motivo vuol dire che è certo che se è un povero disgraziato il missionario non ci va ad annunciare il Vangelo e a battezzarlo quello che deve fare che colpa ha? vive quello che c'ha se c'ha una religione falsa o vivrà in base a quella se non sa che c'ha e quindi come la Chiesa sempre ha saputo dice quello non è un dannato automaticamente ma se nella rudimentale coscienza che ha per quanto ne può conoscere segue il bene conosciuto come tale e fugge il male conosciuto come tale grazie all'universalità della retenzione operata da Cristo e la mediazione della Chiesa che è efficace nei confronti di tutti questo non ha la salvezza preclusa a priori ma noi non sappiamo né come né dove né quando e questo non ci autorizza però a non battezzare le persone poi riprenderemo questo discorso più approfonditamente presumibilmente quando tratteremo di battesimo l'importante è che si capisca cosa significa segni efficaci della grazia quindi con la parte sensibile che hanno acqua in questo caso significano il significato dell'acqua o indicano quella grazia invisibile che conferiscono quindi quando io penso a un sacramento se voglio capire gli effetti che produce devo fare attenzione ai segni materiali con cui viene amministrato giusto? ecco sempre e ne sono significaci perché significando la grazia realmente la conferiscono quale grazia conferiscono i sacramenti? i sacramenti conferiscono due tipi di grazie risponde il Catechismo in esempio decimo la grazia santificante importantissima e la grazia sacramentale cosa sono queste due cose? numeri 270 e 271 270 che cos'è la grazia santificante? io le leggo tutti e due e poi facciamo un secondo stop la grazia santificante è quel dono soprannaturale inerente all'anima e perciò abituale che ci rende santi cioè giusti amici e figli adottivi di Dio fratelli di Gesù Cristo ed eredi del paradiso che cos'è la grazia sacramentale? la grazia sacramentale la grazia sacramentale è il diritto alle grazie speciali per conseguire il fine proprio di ciascun sacramento allora ogni sacramento accresce la grazia santificante è un dono certamente soprannaturale inerente all'anima quindi per questo si chiama abituale quindi non è una è un po' come analogicamente quello che è una virtù quindi è una disposizione stabile ma la grazia è un dono soprannaturale è molto difficile descriverla a parole perché non ci sono parole per descriverla se noi vedessimo alcuni santi vedevano l'abisso che intercorre tra un'anima in grazia e un'anima in grazia c'è proprio una sproporzione atomica immensa la grazia si può chiamare anche per farci capire un po' tenendo sempre presente che il linguaggio su questi misteri divini è sempre imperfetto qualcuno l'ha definita si chiama grazia lo spirito santo in quanto presente nell'anima se io dico lo spirito santo parlo della terza persona della tantissima trinità così come nelle tre persone divine se dico grazia dico lo spirito santo in quanto presente nell'anima di un uomo di un essere umano se aiuta così può aiutare anche così in ogni caso che cosa succede quando c'è questa bella cosa questo dono soprannaturale siamo resi santi giusti amici e figli adottivi di Dio tanta roba fratelli di Gesù Cristo ed eredi del paradiso quindi una persona che ha la grazia santificante può attendere alla santità certo deve può essere giusta cioè può seguire i dieci comandamenti certo con la grazia santificante sì può essere amica amica Gesù ha detto vi ho chiamati amici certo perché la grazia santificante ti rende intima di Dio figlio adottivo di Dio cioè che gli assomiglia certo che gli assomigli perché Dio è santo i santi assomigliano a Dio andate tutte le credinate che dicono adesso i santi assomigliano a Dio non i peccatori i peccatori assomigliano al diavolo non assomigliano a Dio scusate no Dio non è tre volte santo secondo la sacra scrittura e Gesù non ha detto del diavolo che è peccatore fin da principio quindi chi è che assomiglia a Dio il santo e chi è che assomiglia al diavolo il peccatore tanto semplice essere figli adottivi di Dio è una cosa grossa perché sapete che in senso analogico io specifico sempre perché le persone si turbano ma siamo tutti figli di Dio in senso ampio sì perché si può parlare di figlio anche non in senso stretto io i figli non ce l'ho però quando mi rivolgo alle persone spesso li chiamo figli miei non sono figli miei nel senso dei figli naturali d'accordo sono figli per esempio le persone i parrocchiani a cui sono mandato gli piacciono gli piacciono sono figli miei per forza d'accordo quando mi rivolgo a delle persone che so che mi ascoltano e che tra virgolette non mi piace questo termine l'ho detto tante volte ma per farmi capire tra virgolette mi seguono li chiamo figli perché è come dire se mi ascoltano e seguono quello che dico come dire analogicamente mi assomigliano un po' ok ma non sono figli miei in senso stretto quindi è chiaro che tutti quanti gli esseri umani sono figli di Dio in senso ampio perché perché le anime chi le ha create le ha create il nostro signore l'uomo chi le ha creato l'ha creato il nostro signore quindi nell'anima c'è l'immagine di Dio in tutte le anime c'è l'immagine di Dio attenzione però col peccato originale abbiamo perso la somiglianza e l'immagine è offuscata e la somiglianza non c'è più che succede quando una persona viene battezzata che l'immagine viene ripristinata e la somiglianza viene conferita e quindi diventiamo figli adottivi di Dio che è tanta roba fratelli di Gesù Cristo chiunque fa la volontà di Dio ha detto Gesù è per me fratello sorella e madre ed eredi del paradiso possiamo attenderci come eredità sapete quando uno muore lascia l'eredità invece per noi figli di Dio quando moriamo l'eredità la riceviamo sono il contrario se uno muore lascia i beni materiali agli eredi umani ma eredita i beni spirituali ed eterni al momento della morte c'è questo processo un po' particolare questo vale per tutti i sacramenti poi ogni singolo sacramento ha una grazia specifica grazia sacramentale e per poter essere vissuta quella grazia specifica di quel sacramento ci vogliono delle grazie particolari per conseguire il fine proprio di ciascun sacramento diciamo un esempio cioè l'ordine del matrimonio io vengo ordinato prete e quindi qual è l'effetto specifico di quel sacramento evidentemente come ogni sacramento ricevo l'ordinazione e aumenta la grazia santificante ma l'effetto tipico specifico è che io da quel momento divento capace di agire in persona a Cristi posso predicare il Vangelo partecipo quindi alla funzione pubblica ed ufficiale della chiesa che è quella della predicazione della santificazione dell'amministrazione dei sacramenti e in misura proporzionata perché un prete è l'ultimo anello della gerarchia alla funzione di rappresentare Cristo capo e pastore e quindi di governare la chiesa o però perché questa accada ci vuovono una serie di grazie speciali necessarie per conseguire questo fine stessa cosa sono due persone che si sposano da quel momento diventano due in una sola carne da quel momento diventano il segno visibile dell'unione tra Cristo e la chiesa sono unite in maniera indissolubile ma per essere santi sposi e santi genitori è la voglia grazie speciali che dovranno ricevere quelle sono contenute nel sacramento come particolarità del singolo sacramento ora chi ha dato ai sacramenti la virtù di conferire la grazia 272 questa qui è una domanda facile Gesù Cristo l'Omo Dio ha dato ai sacramenti la virtù di conferire la grazia che egli stesso ci ha meritato con la sua passione e la morte attenzione a questo passaggio allora la redenzione con tutto quanto il carico di grazia che comporta è stata compiuta in greco si dice apax una volta per tutti ci sono in ordine a questo problema ci sono due aspetti sempre da considerare primo la grazia non l'avevamo perduta c'è qualcuno che l'ha dovuta comprare per noi d'accordo redenzione significa riscatto pagando un prezzo è proprio come quando uno compra una cosa come ha comprato la grazia per il genere umano nostro signore le vogliamo chiedere a prezzo di lacrime e sangue ora quindi quella grazia è stata comprata tu hai un bene a disposizione ma quella grazia che già c'è deve essere distribuita quindi deve arrivare alle persone quindi c'è bisogno di un secondo step cosa sono i sacramenti il secondo step quella grazia che il nostro signore ci ha meritato con la sua passione e la morte deve arrivare a noi come grazia santificante minimo come un denominatore di tutti i sacramenti e come grazia particolare di ciascun singolo sacramento con il colorario di grazia necessario per poterne conseguire il fine proprio capite perché i discorsi sciocchi di chi con me capitano tante volte no presumo anche a qualche mio confratello ogni tanto pochissime volte perché a questa grande maggioranza delle persone non gliene importa assolutamente niente e nemmeno stanno un pochino in soccensione diciamo di fronte al parro qualcuno che magari sta un po' in soccensione di fronte al parro se uno va in giro va a benedire una casa trova uno che in chiesa non lo vede mai anche se non dice niente a me tante volte è successo perché a me io poi non amo andare a fare come dire prediche retoriche o andare a dire perché non te le do mai ammessa io personalmente sarò un cattivo parroco a me non piace per niente fare questa questa domanda e non la faccio ecco il signore mi perdoni se sto facendo qualche cosa di male che lo possa capire perché eventualmente la faccio però pur non facendo la domanda qualcuno mette le mani avanti dice uè padre guarda io non sono tanto praticante non mi vede tanto in chiesa però sia tranquillo che io non inizio la giornata nella sezione della croce e tutte le sere venne andate a letto faccio le preghiere ma sapete ho perso il conto di quante volte questa cosa cioè chi dice questo qui sta dicendo oh capito quindi per favore non mi levare la pelle non mi cominciare a rimproverare perché ammessa non mi vedi però io sto a posto questo è il senso di questa capite sapete come dicevano i romani no escusatio non petita accusatio manifesta questo è un proverbio figlioli miei cari che è una delle cose più vere umanamente parlando che esiste no chi ti ha chiesto niente perché mi dici questa cosa perché la coscienza di quella persona li rimorde così facciamo un po' di lezioni accessorie e sentendosi come dire dinanzi al ministro di Dio in difficoltà perché li rimorde mette le mani avanti per giustificarsi davanti alla persona e quindi in qualche modo tacitare o cerca cerca di tacitare la propria coscienza che la rimprovera tutte le volte che facciamo queste cose sono sempre speciose motivazioni sempre ci abbiamo torto ma la nostra mente deve elaborare qualche cosa perché l'uomo non è corrotto come gli angeli ribelli quindi noi non possiamo difficilmente possiamo fare il male in quanto male ma dobbiamo sempre dare una giustificazione al male che facciamo per renderlo gradevole possibile abbordabile appunto giustificabile ma questo non funziona non funziona ricordate sempre escusatio non petita accusatio manifesta i sacramenti sono necessari per la salvezza nessuno li può bypassare perché la distribuzione della grazia ordinariamente passa attraverso di essi per cui se una persona non si confessa non sta in grazia ordinariamente tutte le persone che non hanno fatto il tempo a confessare vanno automaticamente all'inferno non si può affermare questa cosa perché bisogna vedere le circostanze perché non si è confessata se non è avuto la possibilità se è successa una cosa improvvisa che ne so se malattia improvvisa perde conoscenza praticamente subito e quindi nonostante che chiami un sacerdote per gli ultimi sacramenti non è in grado di confessarsi non si può dire automaticamente all'inferno però ordinariamente la remissione dei peccati mortali passa per il sacramento della confessione certo che su uno si pente accogliendo una grazia di Dio anche quella dell'ultima ora sinceramente nel cuore possiamo sperare che il nostro Signore vi salvi l'anima ecco però attenzione io insisto su queste cose perché noi non possiamo sulla base del quello che potrebbe comunque accadere trarre principi generali perché una persona che si salva nonostante non si sia per esempio confessata e abito tutti gli altri sacramenti che si devono vincere prima di morire è un'eccezione non è la regola noi dobbiamo vivere essendo pronti a morire in qualunque momento della giornata cioè se ti chiamasse il nostro Signore stanotte sei pronto puoi presumere perché non possiamo saperlo con certezza di stare in grazia di Dio sapete il caso di Santa Giovanna d'Arco perché c'è il canone tridentino nessuno può sapere con certezza di essere in grazia di Dio con certezza assoluta lo possiamo sapere soltanto con certezza morale questo perché perché che ne so se ho confessato bene tutti quanti i peccati quelli che mi ricordo se ho fatto bene alla confessione generale che ne so che ne so se il nostro Signore mi ha concesso il suo perdono ordinariamente lo concede quando non è pentito ma ero proprio veramente pentito pentito posso fare anche su questo un giudizio probabile mi sembra di sì i Santi si esprimevano sempre il verbo essere lo usavano con molta discrezione mi sembra pare ecco se noi imparassimo un pochino di questa cautela penso che non sarebbe mai male cauti nelle nostre affermazioni perché il verbo essere è bisogna sempre usarlo con una certa calma perché non possiamo usarlo bene neanche su noi stessi San Paolo cosa dice anche se non sono consapevole di colpa alcuna non per questo sono giustificato quindi noi possiamo presumere di stare in grazia da quello che mi pare di vedere per quello che ho fatto ognuno di noi sa quello che ha fatto cioè su questo non possiamo raccontarci le balle amici io lo so se ho fatto la confessione generale quante ne ho fatte come le ho fatte lo so bene se i peccati di cui sono cosciente li ho detti tutti bene lo so io lo so e tu lo sai quindi ordinariamente per sperare di stare in grazia di Dio più di questo che cosa ci vogliamo inventare certamente una volta fatta quella lì poi c'è la vita ordinaria della grazia della preghiera i sacramenti frequenti la buona messa per grazia di Dio tutti i giorni insomma comunione quotidiana ecco allora come ci santificano i sacramenti numero 273 i sacramenti ci santificano o col darci la prima grazia santificante che cancella il peccato oppure con l'accrescerci con la grazia che già possediamo questa è un'altra distinzione fondamentale e si può anche esprimere con i sacramenti dei morti o dei vivi perché i sacramenti che ci danno la prima grazia cioè quella che cancella il peccato sono i sacramenti si chiamano così dei morti non dei morti cadaveri attenzione sempre a questo doppio doppio piano il Vangelo di San Giovanni è tutto costruito su questo doppio piano che Gesù faceva sempre i discorsi spirituali e gli apostoli capivano quelli materiali dice la B mangia da mangiare un cibo che voi non conoscete e questi cominciano a dire ho da mangiare un cibo che non conoscete forse qualcuno gli ha fatto già da mangiare e poi Gesù dice ma no mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato allora si chiamano sacramenti dei morti perché una persona che non sta in grazia è morta il libro dell'apocalisse ti si crede vivo e invece sei morto Gesù non sta parlando a cadaveri sta parlando di esseri umani biologicamente diventi e vediamo chi sono questi morti chi sono i morti quali sacramenti ci danno la prima grazia ci danno la prima grazia il battesimo e la penitenza che si chiamano sacramenti dei morti perché danno la vita della grazia alle anime morte per il peccato attenzione il battesimo è un sacramento dei morti ma quindi un bambino neonato è un morto è neonato già è morto è ma tu guarda un po' che cose strane che succedono in questo mondo è neonato ed è già morto ed è già morto ce l'avete mai pensato paradosso no? il problema è che non è morto quando è nato ma è morto quando è stato concepito ma anche quando è nato nasce morto io ogni volta che parlo di queste cose mi sfiato mi infervoro perché poi ogni tanto qualche cosa per quel poco che si può fare oggi perché oggi amici cari si può soltanto salvare il salvabile perché hanno distrutto tutto tutto quello che era stato acquisito e accumulato in 2000 anni è stato raso al suolo quindi adesso stiamo in mezzo a un cumulo di macerie già adesso e credo che le operazioni di distruzione ancora non siano terminate questo vuol dire che un tempo cioè se uno avesse sentito parlarmi in questo modo cento anni fa mi diciamo questo è scemo questo qua ma che ci bisogna poi affottricarsi i discorsi ma che io non ce lo so un figlio nasce e due ore dopo sta già al fonte battesimale perché quelli non c'erano dubbi che quella creatura tanto innocente tanto caruccia poverina non per colpa sua ma per la maledizione in cui purtroppo il genere umano è soggetto noi siamo schiavi di satana non è uno scherzo questo qui Gesù ha chiamato il diavolo il principe di questo mondo ma non è che Gesù parla a vanvera cioè noi partiamo tutti quanti avete visto quando in un campionato ce ne stanno 50 punti di penalizzazione noi siamo tutti penalizzati a priori tutti ti piace non ti piace c'è qualcosa di cui lamentarti beh fatti due chiacchiere con la Santissima Trinità non so cosa dirti ma questa è la realtà e quindi battesimo e penitenza vuoi capire i sacramenti dei morti certamente non sono i più grandi perché il più grande di tutti i sacramenti è l'eocarestia ma senza battesimo non può ricevere l'eocarestia e senza la penitenza di essere un adulto che ha commesso un peccato grave attuale non può ricevere l'eocarestia quindi non sono i sacramenti più grandi ma sono i più importanti il battesimo è il più importante di tutti in assoluto e quali sacramenti già crescono la grazia quindi la grazia che già uno ha e quindi con questo si capisce che questi sacramenti devono essere ricevuti stando in grazia cresima l'eocarestia unzione ordine e matrimonio che si chiamano sacramenti dei vivi perché chi li riceve deve già vivere spiritualmente per la grazia di Dio fate che anche il sacramento dell'unzione per questo che cioè allora il sacramento dell'unzione si può dare quando una persona è incosciente anche se uno può dubitare se quello si è in grazia oppure no ma se no il sacramento dell'unzione prima di essere amministrato richiede la confessione se la persona ha bisogno di confessarsi sentite cosa cosa afferma nel 276 ha anche attuato altre cose oggi mi arriva una mail tanto per dire adesso ci stanno queste altre frasi che vanno di moda io dico no dice ma c'è qualcuno che dice che l'eocarestia non è il cibo dei perfetti cioè che sono che non è che Gesù ha istituito scusate l'eocarestia per i perfetti e quindi e quindi cosa io risposto dico certo Gesù Cristo l'eocarestia non è per i perfetti se no la comunità fa soltanto la Madonna d'accordo ma per le persone che stanno in grazia sì perfetti no ma in grazia sì se no non ti può fare la comunione perché come qui si legge chi riceve un sacramento dei vivi sapendo di non essere in grazia di Dio commette peccato gravissimo di sacrilegio perché riceve indegnamento una cosa sacra questa vale sia per la cresima sia per il matrimonio sia per l'ordine sia per l'estremozione ma il clou è l'eocarestia ma voi non avete idea dei sacrilegi che stanno in giù io spero di sbagliarmi ma capite quando uno sta facendo tra virgolette chiamiamolo lavoro che lavoro che faccio io non è un lavoro chiaramente però per farci capire io non mi posso troppo illudere perché certamente posso sempre dire tu solo lo sai però alcune cose sono abbastanza evidenti come faccio io a pensare che i ragazzini cresimati siano in grazia quando la mia esperienza di parroco mi insegna sono quasi 20 anni io ho fatto soltanto questo diciamo che so fare solo questo non ho incarichi di curia non ho cose di altro genere quindi non so fare cioè non credo di saperlo fare però di fatto ho fatto solo questo ho fatto il parroco sempre se io ho visto centinaia di ragazzini adesso meno questo qui da qualche anno perché qui i numeri sono di molto calati ma che vanno a fare la cresima e il 95% e mi tengo basso con la percentuale da dopo la messa di conferimento della cresima sparisce dalla circolazione scusate posso io illudermi di pensare che questi qui hanno fatto una bellissima cresima che stavano tutti quanti in grazia di Dio non lo so tutti quanti i matrimoni preceduti da libere convivenze cioè oggi mi tengo basso facciamo l'80% quei pochi che ancora si sposano mi tengo basso e quegli altri 20% arrivano vergine al matrimonio tutti il 20% se una persona non ha fatto un atto di contrizione profonda tu non ti puoi mica presentare al matrimonio in quel modo tu non puoi presentarti al matrimonio come fornicatore o pubblico concubino impenitente ma stai scherzando stai il matrimonio è valido attenzione è valido cioè perché un sacramento sacrilego non è che è invalido è valido cioè la persona che si è fatta la crescima senza stare in grazia di Dio la crescima l'ha ricevuta ma come l'ha ricevuta l'ha ricevuta ma quello sarà un soldato di Cristo certo il sigillo del crisma e quindi il carattere indelebile poi lo vedremo che attraverso unzione fatta di talvescolo sulla fronte si è impressa sulla linea non glielo toglie nessuno il sacramento del matrimonio se quei due sono andati a sposarsi liberamente intendono formare una famiglia finché morte non si separi indissolubile di accogliere i figli quel sacramento è valido ma quali grazie riceveranno se hanno ricevuto quel sacramento non in grazia ma hanno fatto un sacrilegio nel riceverlo nelle condizioni in cui stavano io stimolo sempre la riflessione sto leggendo un numero di un catechismo che sto facendo perché poi questi non possono rimanere le ghiacchie e le morte facciamo qualche esempio stessa cosa vale per l'ordine sacro non è che siccome ricevi l'ordine sacro quello è siccome l'ordine sacro fa tabula rasa no l'ordine sacro viene ricevuto in base alla disposizione dell'ordinando che cosa dobbiamo fare per conservare la grazia dei sacramenti per conservare la grazia dei sacramenti dobbiamo corrispondere con l'azione propria operando il bene e fuggendo il male conservare la grazia dei sacramenti corrispondere con l'azione propria operando il bene e fuggendo il male hai ricevuto il sacramento della confermazione quindi tu hai innanzitutto confermato la tua volontà di essere cristiano quindi ratifichi una scelta che che altri hanno fatto per te basandosi sulla fede dei padrini quindi vuoi che la cresima che la grazia della cresima si conservi in te ebbene comincia a vivere da cristiano come è professato il giorno della cresima si è diventato anche testimone di Cristo un tempo si diceva io detesto questa espressione perché se un tempo si diceva si deve dire anche oggi soldato di Cristo quindi comincia a combattere la buona battaglia come con l'esempio e con le parole vai contro corrente così si conserva la grazia sacramentale 278 quali sono i sacramenti più necessari per salvarsi qui sarei tentato di fare una pausa di silenzio rispondete i sacramenti più necessari quali sono i sacramenti più necessari per salvarsi sono i sacramenti dei morti cioè il battesimo e la penitenza perché danno la prima grazia è la vita spirituale il battesimo e la penitenza io dico sciagurati quei genitori ahimè anche se adesso sicuramente rientrano nella categoria sicuramente spero non voglio essere voglio sostituirmi a nessuno che rientrino nella categoria di quelli che non sanno quello che fanno sciagurati quei genitori che procrastinano nel tempo il battesimo di un figlio o addirittura quelli ancora più come dire inqualificabili che si mettono in testa dicendo ah vabbè ma che ribattezza fare gli faccio una violenza e poi quando crescerà lo decide lui se battezzarsi o no sapete come si risponde a chi dice così no io rispondo sempre dico va bene quindi tu dici che il battesimo glielo darai quando lo chiede sono d'accordo a condizione però che tu gli darai da mangiare a tuo figlio quando lo chiede perché gli dai da mangiare te l'ha chiesto da mangiare gli dai da mangiare perché presumi che abbia bisogno di mangiare giusto ma non te l'ha chiesto e perché ha bisogno di mangiare perché altrimenti muore giusto ah e invece essendo già morto per quanto riguarda l'anima tu pensi che non c'ha bisogno del battesimo e quindi non lo lasciamo morto che discorsi strani che fai dobbiamo anche un pochino imparare ogni tanto con tanta carità certamente e dolcezza però a rispondere anche un po' a certe argomentazioni un po' pellegrine no? quindi noi che siamo adulti chi ascolta queste catechesi ecco è un adulto certamente non è che non è che ascolta un bambino non battezzato però i genitori ancora giovani che ascoltano queste cose per favore agiscano di conseguenza io so che a volte tra le tante problematiche che si riscontrano nell'attuale contesto storico ecclesiale uno vorrebbe battezzare il figlio presto in ospedale non lo fanno battezzare più quasi da nessuna parte perché i vescoli l'hanno proibito quasi dovunque quindi questo ancora devo capire in base a quale o meglio lo so la motivazione è che siccome col sacramento tu entri a far parte della comunità ecclesiale il luogo proprio dove amministrarlo è la parrocchia sicchest va bene allora vado dal parroco e gli dico senti padre quando esco dall'ospedale tu mi battezzi mio figlio vero? no ci sono dieci incontri di preparazione al battesimo purtroppo capitano queste cose allora un sistema si trova sempre d'accordo perché un sistema lecito per carità eh quindi perché per esempio qui dalle nostre parti sono stati abrogati i nulla osta quindi se una persona sceglie di battezzare un figlio fuori parrocchia non c'è bisogno di chiedere il permesso a nessuno solo al parroco che deve battezzare quando si usa la nulla osta si prova a chiedere generalmente nulla osta viene concesso a meno che non capiti una situazione insomma limite comunque a noi interessa di più il sacramento della della penitenza attenzione a questo sacramento attenzione confessare bene i propri peccati poi celebrarlo spesso e bene specialmente chi vuole fare un buon cammino spirituale la confessione deve essere arrivata entro gli otto giorni otto giorni ma no ma entro un mese dentro un mese non farai una buona ed elevata vita spirituale questo tutti i santi su questo erano tassativi può succedere una volta che uno sgarra di qualche ma di qualche giorno dieci dodici perché magari c'è una difficoltà non si è riuscito a confessare non ha trovato lo sacerdote e celebrarlo bene possibilmente questo sacramento la confessione di devozione sta su un piano differente perché la confessione di devozione non è un sacramento di un morto anche se è la confessione perché la persona è già viva quindi si confessa come strumento di perfezione mezzo per praticare la santa umiltà per ricevere la grazia sacramentale del sacramento e anche perché figlioli mi cari se smettiamo di confessarci già l'essere umano i peccati e l'imperfessione propria non riconosce mai d'accordo mai se non sappiamo il pungolo che qualche cosa ne ha dovuto pure andare a confessare andiamo in malora perché non è che non li facciamo ci convinciamo di non farli e scegliamo di non vederli questo è un altro discorso 279 infatti il battesimo e la penitenza sono ugualmente necessari il battesimo e la penitenza non sono ugualmente necessari per la salvezza perché il battesimo sì è necessario a tutti a tutti non può essere imposto a nessuno ma è necessario a tutti e tutti gli esseri umani hanno diritto di essere battezzati nascendo tutti col peccato originale la penitenza invece è necessaria a quelli che dopo il battesimo hanno perduto la grazia peccando mortalmente e non è detto che questo accada non è detto che questo accada voglio dire siamo peccatori in che senso non è detto che questo accada ci sono stati i fiori di santi nel corso della storia della chiesa che i peccati mortali non li hanno commessi mai nell'attuale contesto purtroppo questo è molto difficile ma ci sono santi che non hanno o c'è San Luigi Gonzaga voi pensate che San Luigi Gonzaga abbia mi fatto un peccato mortale io non ci credo manco se lo vedo manco se lo vedo o una santa gemma calgani mi ha fatto un peccato mortale il confessore ce l'ha lasciato ho detto dopo la morte ha cantato c'è qualche canonista che dice no non si può cantare manco dopo la morte ma vabbè io non sono un esperto quindi comunque ha cantato il confessore di santa gemma e dice che qua andava a confessarsi in lacrime una volta a settimana ovviamente confessando in lacrime solo imperfezioni quasi tutte involontarie quindi neanche un peccato veniale semideliberato perché la grazia di Dio non è acqua se tu la custodisci certo attenzione il santo non è come quelli che vanno a dire padri non ci ho peccati no si confessano le imperfezioni in lacrime perché pensano che quelle cose siano delle cose orribili e questo è il segno che sono mossi dallo spirito buono e qui pensiamo se ci capita per esempio ogni tanto di piangere sulla nostra miseria su noi stessi piangere 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 non piangere metaforicamente perché si dice le imperfezioni ma adesso non mi fate rileggere che l'ho fatto recentemente credo durante una catechesi sulla consagrazione a Maria quel passaggio del trattore della vera devozione dove dove San Luigi dimostra quanto siamo strutturalmente imperfetti i santi soffrivano di questa cosa qui perché io mi devo presentare davanti al Signore io non sono mai degno di Lui mai ecco perché anche prima di fare la comunione qualcuno sorce la bocca e dice Signore non sono degno certo che non sono degno non sono degno non perché sto in stato di peccato mortale perché questo questo argomento del non sono degno lo usano anche quelli che vorrebbero cambiare la dottrina cattolica dire che adesso devo andare a farla con noi perché devo andare a farla a chiunque tanto dici non sono degno o altri che addirittura pensate il diavolo dice ma tutti possono fare la comunione sapete perché perché nella formula della consagrazione del vino questo dicono altri che stanno non ci stanno bene col cervello versato questo è il calice del mio sangue per la nuova e l'etena alleanza ho versato per voi per tutti l'emissione dei peccati siccome sull'altare si sta attualizzando in forma incruente del mistero del il sacrificio di Gesù il cruento quindi c'è sangue che si versa per la remissione dei peccati tutti quelli che partecipano sono i peccati perdonati e qui tutti possono fare la comunione sta cosa ho sentita con quelle orecchie mie non è che me l'hanno raccontata sicchie st 280 se il battesimo è necessario a tutti può salvarsi nessuno senza il battesimo senza il battesimo nessuno può salvarsi attenzione senza il battesimo nessuno può salvarsi quando però non si possa ricevere il battesimo di acqua basta il battesimo di sangue cioè il martirio sofferto per Gesù Cristo beh insomma oppure il battesimo di desiderio che è l'amore di carità desideroso dei mezzi di salute istituiti da Dio il catechismo è un esempio decimo c'è questo battesimo di desiderio sul quale poi si fonda la possibilità dell'accesso della salvezza per coloro che senza colpa non si sono battezzati ignorando l'esistenza della chiesa la necessità del battesimo per la salvezza ma certo che la linea cioè immaginate voi capite che il catechismo è un esempio decimo è stato scritto cent'anni fa io penso che nessuno un po' più di cent'anni fa io penso che nessuno a quei tempi poteva neanche non talmente immaginarsi alcune cose che sarebbero poi state dette insegnate affermate cent'anni dopo perché non se ne potevano neanche sognare la notte allora vediamo se riusciamo a concludere forse sì quante volte si possono ricevere i sacramenti i sacramenti si possono ricevere alcuni più volte altri una volta sola e vediamo quali quali sacramenti si ricevono una volta sola sono tre battesimo cresima e l'ordine 282 ma come c'è anche il matrimonio e no figlioli miei cari non c'è il matrimonio perché il matrimonio se uno muore ci si può risposare ma anche l'olio santo specialmente anticamente era l'estrema unzione ma se una persona guarisce può riceverlo un'altra volta non una volta sola questi due sacramenti perché il battesimo e l'ordine si ricevono una volta sola guardate che il segreto è i sacramenti in cui si usa il crisma il battesimo la cresima e l'ordine si ricevono una volta sola perché in primo non è l'anima un carattere permanente operando una consacrazione perpetua dell'uomo a Gesù Cristo alla quale lo distingue da chi non abbia non si vede tutti voi che mi ascoltate se siete battizzati e cresimate voi ci avete due caratteri sfraghis si dice in greco due segni inderebili nella vostra anima uno ce l'avete sulla testa e uno sulla fronte sulla testa c'è quello battesimale sulla fronte c'è quello della cresima io ne tengo altri due sulle palme delle mani destra e sinistra motivo per cui tradizionalmente anche se oggi non si fa così più si baciavano le mani dei sacerdoti non certo per fare un segno di vassallaggio o di come dire o di dipendenza gratuita no ma perché quelle anime quelle mani sono mani consagrate un tempo le mani venivano legate di un sacerdote appunto per non perdere il crisma poi venivano asciugate e poi finita la cerimonia si baciavano solo quel giorno le palme delle mani non il dorso e la prima persona baciata era la madre dell'ordinario e che cosa è il carattere il carattere è un segno distintivo spirituale che non si cancella mai alla faccia di quelli che chiedono lo sbattezzo che non si può fare per quello non si cancella mai i dannati stanno all'inferno distinti dagli altri esseri umani perché un dannato cristiano si vede che è stato battezzato i demoni lo vedono gli altri pure si è stato cresimato si vede se era un prete c'è bisogno che si mette la veste talare dato che adesso se la mettono neanche qua ma all'inferno lo vedono che è un prete qua no se non c'è la veste talare ma all'inferno lo vedono e quale carattere imprimono bellissimo il battesimo il carattere di cristiano la cresima quello di soldato di cristo e l'ordine quello di un suo ministro cristiano soldato e ministro questo è un prete tutti gli altri sono cristiani e soldati 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 che combattono la buona battaglia della fede quante cose si richiedono per fare un sacramento è meglio che ci fermiamo non abbiamo concluso la parte generale però adesso qui si entra in maniera in materie abbastanza delicate che necessitano un pochino di tempo stiamo a 59 minuti di catechesi siamo arrivati quasi al tempo massimo queste cose non si possono fare di fretta non ci corre dietro nessuno non dobbiamo andare più a Roma come si dice appunto a Roma e quindi ci aggiorniamo la prossima volta per andare a chiudere ci sono solo quattro numeri della parte generale ma sono numeri pesanti perché introducono altri concetti fondamentali che è bene saperli e assimilarli bene prima di fare la parte speciale bene amici Dio vi benedica e la Madonna vi protegga e alla prossima puntata Dio vi benedica